Drammatico incidente stradale lungo la strada che da Taurio Nova conduce a Polistena. Qualche centinaio di metri dopo la città a mercato La Cometa, per cause in corso di accertamento, un incidente pare provocato da una svolta avventata a sinistra di una motoape, ha innescato una testa coda di una Golf che seguiva la stessa motoape e che a sua volta è andata a sbattere violentamente contro un pesante autocarro. La scena, come mostrano le immagini, è terrificante. La vettura Golf si è letteralmente disintegrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Taurio Nova per i rilievi e i soccorsi ai feriti che sono stati portati immediatamente presso il nosocomio di Polistena per le cure del primo soccorso.